Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi ci guardiamo negli occhi, ci guardiamo veramente un po' o ha ha, ok? Sempre con 3-4 persone e anche 5, adesso aumentiamo l'incredondazione, almeno 5 persone, ok? Grazie a tutti. Oh ah 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 ah, da questo tempo non ci vediamo. molto bene, 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 ok, adesso facciamo il saluto a Motosega, attenzione al saluto a Motosega, attenzione alle scapole, ok, lo rifacciamo, ok, chi vuole aggiungersi, può aggiungersi, cosa vuole? è in 155 do U pone, movimento! Vieni, vieni, vieni! Va, pa, pa, ora mi t是什麼? Ehm, bebe! è bravissima la nostra accorcia da che fals Ministry oh? 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 è deciso, la faccia facile stiamo facendo una sega otto bene, molto bene molto bene Adesso continuiamo con la schiena dei saluti, noi ci saluteremo fino all'ultimo momento, facciamo il saluto della gallina del canceotto, allora tu fai il saluto del gallo, i maschi fanno il gallo, e quindi facciamo, facciamo, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha, ci muoviamo e portiamo in azione, ho ho ha ha, ho 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 ha ha, Oh oh mané, oh come trovo il gallon. Tutta bene manda bene, manda bene, manda bene, manda bene, manda bene. Adesso che ci siamo salutati, siamo salutati come faccio il cuore, beviamo, beviamo, in India si usa il bicicletto, ora noi non è, allora in India si bevono belli freddi, tanti caldi, noi ci bevremo belli freddi, troppo caldo, quindi faremo, mischieremo, mischieremo così, prendiamo due bicchieri, ognuno i suoi, bicchieri, due bicchieri, riparemo, oh, 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 No, ma poi si bagna, Dio! Vieni, di nuovo! Ho! 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 No, di nuovo, di nuovo! Ho! 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 Di nuovo, di nuovo! Ho! 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 Marco, tu che non fai niente, vai a pigliare qualcosa fresca, no? Di nuovo, di nuovo, più veloce! Ho! 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 Cuocchiamo i bicchieri! Sono più degradabili! Però sono più degradabili! Vado bene! Vado bene! I miei! Molto bene! Molto bene! Molto bene! Vi trovo più forte! Molto bene! Ciao! Come ciao! No! Finale le nove e mezza, dopo finiamo! Va bene! Va bene! Ciao! Ciao! Molto bene! Emanuela, prendila, vai con un esercizio, vai, forza, forza, facciamola giù, allora facciamo e poi facciamo andare la risata, ok? Grazie a tutti.